Salve a tutti, oggi proverò con voi queste creme che mi sono arrivate direttamente dalla Corea Per chi non la conoscesse, la Corea è un paese che investe tantissimo nella ricerca, soprattutto in ambito dermatologico perché la pelle degli orientali è diversa rispetto a quella degli occidentali è molto più sensibile agli agenti esterni come possono essere le radiazioni ultraviolette Queste creme si chiamano Prestige Creme Ginseng de Scargo ed è della marca It's Skin Queste creme sono a base di bava di lumaca, la bava di lumaca è veramente miracolosa per la pelle Direi di iniziare a provarla Ha un colorito rosaceo Il profumo è delicatissimo e a differenza delle creme che ho sempre usato, questa qui è veramente densa Ha un profumo suave Questa qui si chiama Prestige Yo Ginseng de Scargo, quindi è a base sia di lumaca ma è anche a base di ginseng È una crema contorno occhi, è sempre made in Corea, della It's Skin E questo devo dire che è un applicatore fenomenale, non l'avevo mai visto così Praticamente come funziona? Qui c'è una pallina che la ruoterete sul vostro contorno occhi E prima di tutto dovrete spremere il pulsante qua sotto in modo tale che esca la crema Quindi dopo aver fatto fuori uscire la crema premendo il pulsante andremo ad applicare la crema nel nostro contorno occhi E dopodiché iniziamo col tendere la crema Facendo ruotare la pallina attorno al nostro contorno occhi Ok, questo qui è il risultato finale È assolutamente idratante questa crema, la adoro Ci sono prodotti di aziende italiane che collaborano con aziende coreane Ma ancora penso che la qualità del prodotto coreano ancora non abbia i vali Dopo aver fatto da sponsor gratuitamente la Corea Vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi